ehi 18 sei pronto oggi oggi sono andiamo salvare il mondo c'è un ingresso abbiamo contatti davanti a noi oggi 400 metri vediamo quanti sono 1 2 3 4 ho tre linee vedo tre quattro dov'è sono in tre linee e quattro in fondo 5 metri decidi farli fuori proviamo uno è andato dove andate anche l'altro ma io vedo molto anche l'altro sto sparando a quello giù in fondo ah non lo vedo io quello sto a che metto il saltaggio a 300 ah c'ha le foglie che lo coprono andiamoci buono andiamoci troviamo un attimo la mappa che è in questa direzione oh ne vedo oh oh aspetta aspetta vedo quello sul veicolo dov'è a a 200 metri direzione ti ho chiesto si sparano io morto l'ho ucciso ok che veicolo è andato l'alziamo un po' eh occhio se ce n'era uno ce ne può essere alcun altro mamma mia pure veicolo armatico di tutto vabbè l'ultima parte andiamo 500 metri dall'obiettivo occhio quello che era nelle frasche dove è adesso? non lo so è stata una musica strana oggi avvenziamo un po' porca ha iniziato adesso ricordo che abbiamo un contatto disperso a sinistra se mi ricordo ti preoccupare tengo la luce io che qua si vede io mi do riposare un attimo faccio cercare di tutto di più oh mamma mia ma è un car armato? no ma quanta gente a sinistra a sinistra? si e ce n'è anche a destra scusa ah ecco no c'è anche un car armato c'è anche un car armato là oddio lo vedo mi stanno prendendo per il culo mi stanno prendendo per il culo ok oh piccolo armato davanti a noi cazzone sanno che siamo arrivati tanta gente come si non capisco quanti metri sono 200 aspettiamo che si fermi almeno quello c'è anche uno con la mitraglietta sopra la torre lo vedi? io vedo sulla destra dove c'è il car armato uno sopra una torricciola provo a ucciderne uno aspetta io non vorrei che ne mazzi uno qua ci sparano io direi di trovare un posto dove possiamo avere copertura prima non ci feriamo dentro un magazzino cominciamo a sparare non ci può aprire il magazzino siamo messi in merda io spero che il car armato non funzioni veramente come cazzo lo battevano il car armato? no lo usano come oh e vado sopra alla torre io questa qua no lo so quanto ti convenga anche dentro la torre ho visto la gente camminare nelle finestre siamo a 329 metri da Slaughter il veicolo fa avanti e indietro proprio siamo 4 persone a piedi 2 su veicolo 1 sopra la torretta 1 dentro il car armato sconosciuti non si sa se funziona o no ah c'è anche un elicottero ha battuto si e oggi vogliamo cominciare e cominciamo da adesso e prima quelli lontani sulla macchina proviamo e se non si fermano si fermeranno quando iniziamo a sparare gli altri obiettivi sono a 500 quant'è che è? non c'è capire quelli di 4 che si muovono abbiamo una torretta qui oggi può salire qua? eh io voglio salire lì infatti provo a vedere se può salire no no si mi ha paura se ti spara quello con mitragione te lì non scappi eh vabbè me ne invento una eh che altro a me preoccupa tanto il car armato io spero che non sia attivo quel robo a parte che è un gorgon sembra di vedere eh dobbè avere solo la mitraglia su un mito lancia granate o cose varie beh io direi di dividersi i compiti tu pensi alla macchina io penso a quelli a piede appena ci sei me lo dici io ci sono bella un po' la visuale vediamo se la mitraglia da qua guarda se sono altri lontani il tizio è lasciato nel bosco non lo vedo più no ci sono solo questi eh va bene dai cominciamo aspetta che non vedo la macchina ah ok ora la vedo dimmi va benissimo eh ma c'ho il fumo davanti alla macchina spero secondo me se non iniziamo a sparare gli altri la macchina non viene qua quindi cosa vuoi fare? eh iniziamo da quegli apidi la macchina è lontana forse non li vede subito va bene eh cerchino quello più sulla torre in alto vado va bene uno è morto è morto un altro carico la macchina si è fermata chiuso un altro balla troppo la visuale oh ho giusto quello sulla macchina ho giusto quello sulla macchina c'era un contatto a piedi che l'ho perso uno è steso per terra dimmi la zona più o meno ci sono i cadaveri morto adesso no sta muovendo che lo vedi? l'ho hittato ma non è morto le ho ricaricare sta curando la merda è morto ora manca quello sull'auto ok sa che è morto no muove ancora si muove ancora scusa è sceso eh io ho sporato la gomma si è morto ok avanziamo eh spera l'armatone per ora non si è mosso però sta avanzando io aspetta che mi avvicino aspetta che mi avvicino allora vediamo no muove nel suo non vuole accendersi vi si è che tutti continua la non ti non ti ti è una la non la non 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 Foggi, pieno di roba. C'è ogni sorta di roba che ne trovasi. Arrivo, arrivo. Ah sì, conviene tenercelo per scappare questo. Beh. Dov'è che dici che c'è un po' roba? Dio po', guarda lì. Ho visto, ho visto. Dai che dopo andiamo a vedere di sopra cosa c'è. Sì. A me basterebbero delle munizioni per il mio qua. Andiamo a provare a salire? C'è. Vediamo chi c'è in caso. E spingi la luce che tanto qua ci vediamo. Adesso ci vediamo tra virgolette. Aspetta, 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 aspetta. E non vedo un cazzo qui dentro. Provo da prima. Qua e te luce? Sono io con la luce, sì. Grande. Occhio se c'è un altro. Non è morto. Dove è andato? Grande. Da qui, eh. Ok. Occhio. Allora, qua c'è un contatto appena seguo le scale. Morto. Ah, questo qua l'ho ucciso prima bombardando, ok. Aspetta. Ehi, cosa? Ah, no, è cominciato a piovere. Però. Mi sa che questo è la slaughter. E' l'unico vestito in modo diverso. Provo a salire su, eh. Mi faccio un giro. Sì. Hai anche qualcosa in mezzo a metà? Aspetta. 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 Siamo arrivati a live con la notizia corrispondente Amanda Rogers, che è on-site at the Deacon Center Mall. Ciao, Amanda. Puoi dire cosa sta succedendo là? Amanda? Ciao? Beh, sembra che stiamo avendo alcune difficoltà tecniche in contatto con Amanda. Siamo provare a vedere momentaneamente. Questa è ovviamente una notizia molto distruttiva e ci saranno con questa storia tutto il giorno. C'è una notizia. Comunicato radio. Quindi io dobbiamo andare a Deacon Village. Sì, penso che adesso andavamo a recuperare la cura. Prendiamo la limusina. Penso proprio di sé. Quindi che vedo io? Vedo io. Gunner! Ok. Penso proprio che... È giunto il momento di chiudere la faccenda. Con le luci. Sì, perfetto. Deacon Village. Faccio che passi sulle fiamme, che non andiamo a esplodere col veicolo! Da buono gli evo, è buono. Ok. Vado mettendo il punto sulla mappa. Mi scegna Phantom Cure, Extraction. Ah, qua c'è l'estrazione. Perfetto. Phantom Cure. L'opantino. Vediamo. Un chilometro e nove. Ok. 700 metri dal punto di attrazione. Posso già... Orca, orca, qua. Qua ci sono tantissimi contatti. Fermati. Non li vedo, io. Sono... Più o meno una quarantina. In che senso, una quarantina? Sono davvero tanti. Prova a scendere e attiva il visore termico. Inizio a tirargli. I 100 metri. Madonna mia. Vai Orsi, bombarda tutto. Eh, c'è sempre il bug degli alberi. Porca puttana. Aspetta che ti metto qui in campo aperto. Tra gli alberi d'osso. Fermati, fermati. Allora, iniziamo. Riprovo. Oh, ho trovato uno di quelli resistenti. Sto notando. Non sono mica tutti così. Oh, si è mosso adesso. Sto sentendo... Le ore gemiti, le ore urla. Stai lanciando a salve? Non ne vedo uno da giù. Non ne vedo uno da giù. I bing, gli alberi sono da scudo. Non riesco a buttarli. Va bene, dai. Amare gli estremi stai per i metri. Ah, qua si va di scondamento. Sì. Carna, albuatalo, sopra le esquina, non lo sei. Internet. Ah valla che da vicino gli fai Ma perché si affrosciano così tanto? Non so Mi sento Penso che dobbiamo andare Non so dove recuperare la cura però Unifichiamo l'area Quello lì è il minimo Fermati Da quanti? Senta il termico io non ce l'ho Non so se li stai mancando No c'è uno che sta facendo il ballerino perché lo blecco ma non vuole Oh è morto Faccio così faccio prima Stiamo lì qua sotto Altri contatti a destra Dov'è? Fermati Lato Guarda c'è uno qua dentro guarda Guarda qui dentro Anche dopo la rifinzione ci sono due Sì Vabbè 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 Qui c'è una casa Ok penso che qui ci sia la cura Aspetta un attimo scendo Tu copri Forza 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 Ce n'è uno Ce n'è uno Ce n'è uno Ce n'è uno Quattro uno Di quelli resistenti Fatto un cura Presa Presa Ora una cura Una cura l'ho presa Con di quelli che ce ne sono Tantissimi attorno Sì Una cura l'ho presa Vabbiamo assicurarci l'altra Detto a noi ci sono decontanti Dopo un curito Voglio andare a recuperare la cura Devi fare il tuo dovere Non ho capito perché Vado ai 20 all'ora Adesso Detto resistente Davanti a noi Quasi non penso che avrei colpi infinite Che è questo? Oh Non faccio nulla Non è morto Non è un problema Che mi affligge in questo momento Ma madonna Nostro caro armato È guidabile Ok Dove è l'altro pezzo di cura? Qui dentro? No Occhio alle fiamme Vabbè le fiamme Non penso che mi fanno male Anche l'armato Beh neanche bene L'altra cura dov'è che Allora in teoria Allora qui l'abbiamo recuperata Giusto? Sì Allora qui l'abbiamo recuperata Dobbiamo andare nel secondo? Sì in teoria sì Vicino al punto di estrazione Sì 141 metri Vediamo un po' Madonna qui la gente che c'è Direto a noi Ora quanto? Uno Uno Ah dentro quest'altra casa in costruzione Giustamente Allora Eh occhio Muoi? Muoi Uno fermo lì dietro Non riesco a beccarlo Fermati Fermati Fermo No Non muore Il tato Il tato Il ginocchio L'avrò il tato penso 10 volte No ma lo beccavo Fermati Me lo parcheggio qui Me lo parcheggio Eh L'ho già presa Cura 0 Presa Ah mi si compi Oh è morto adesso Allora tre minuti Tra tre minuti arriva l'elicottero Tre minuti Punto di estrazione Qua ok Oh Altro contatto Che viene verso di noi Va bene vado intanto al punto di estrazione Ok Qui ci dovrebbe essere il punto di estrazione Ok Ok No l'hai visto Gb posso fare una cosa che ho sempre desiderato a fare Del tipo Il contatto a 200 metri Ma madonna Cioè vai leggero te oggi Oh cazzo Ok Ok Ma ci sparano No no ho sparato io Lo vedo Sta arrivando Sii Leggeri con un costo walk Oh grande Dai 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 L'abbiamo fatta il mondo alla sua cura per il Phantom Ah, questa sigaretta è proprio meritata Bye bye limousine Non so se non avevamo quel cararmato come finivamo alla fine Vediamo come si conclude Verso dove ci sta portando? Ah, verso il fine mappa Missione completata! Doomsday Night E' finito, ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta